non so Driss si sono Cruciani ciao amico mio marocchino ciao buonasera senti ma tu accetteresti di essere il secondo il terzo il quarto marito beh potremmo accetteresti di essere il secondo il terzo il quarto marito si si col cazzo il secondo il terzo il quarto marito di una donna cioè la policamia l'accetteresti anche al contrario no 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 scusa 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 ripete ripete che hai detto accetteresti di essere il secondo terzo quarto marito uno dei mariti di una di una donna accetteresti di esserlo onestamente no eh appunto non accetteresti invece al contrario reputi normale la policamia al contrario sei una vergogna sei una vergogna è dimostrato che sei una vergogna l'accetteresti o no lo accetteresti o no ma hai detto chiaramente no lo ripeto lo ripeto un'altra volta no no lo accetteresti arrivederci e grazie vergognati arrivederci grazie a voi grazie a voi